Riprendiamo il filo di Just Today, come di consueto anche oggi, non vi faremo mancare notizie ed aggiornamenti e quei collegamenti con persone che vivono il nostro tempo in maniera attiva, cercando di lasciare un segno. Anche loro, ognuno nel proprio campo, siamo felicissimi di avere in collegamento con noi stamattina Maria Cristina Ceresa, direttore di Green Planner Magazine, un magazine che da 12 anni si occupa dei temi ambientali che come sapete tutti sono temi ormai cruciali, sfidanti e che ci portano ad affrontare argomenti che non sono più rinviabili nell'agenda, non soltanto delle nazioni e delle istituzioni direi Maria Pia, ma anche di ogni singolo cittadino. Buongiorno Maria Cristina, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a voi, salve. Sei d'accordo, sei d'accordo con me o l'ho fatta troppo drastica? No, allora io, vabbè, come giornalista, siamo colleghi, vivo di questa transizione ecologica che secondo noi è 12 anni che la viviamo in prima persona con Green Planner, ma io lavoro anche per il sole 24 ore, secondo noi è necessaria. Per il bene della nostra nazione, per il bene economico, ma anche per la salute. Senza transizione ecologica avremo sempre più una crisi climatica che ci manderà a cambio all'aria e una salute che non può funzionare con l'inquinamento perché senza transizione ecologica dovremo continuamente avere a che fare con un inquinamento prodotto dalle nostre stesse abitudini, ma anche dalle nostre industrie. Quindi secondo me è necessario e io poi dico sempre che porta con sé questa transizione ecologica un importante traino per anche le professioni, il lavoro dei nostri studenti, dei nostri ragazzi che si preparano ad affrontare correttamente il loro futuro con i green jobs. Grazie, condividiamo quindi condividiamo con te l'approccio all'argomento, mentre chiacchieravamo stavamo vedendo anche qualche immagine delle vostre iniziative perché l'educazione ambientale, la sensibilità al tema dell'economia circolare, adesso ci soffermeremo anche sull'importanza di questo termine, la svolgete non solo attraverso il magazine, attraverso il web, ma anche attraverso una serie di iniziative, l'ultima delle quali o tra le ultime in ogni caso è quella che aveva questo titolo singolare, pink e green, perché al verde associate anche tutta la vostra carica femminile, sappiamo quanto le donne siano importanti e preziose per la nostra società, anche perché a differenza degli uomini, stando a quel che si dice, anche per alleggerire un po' la nostra chiacchierata, voi siete più multitasking, per cui più in grado di gestire più cose contemporaneamente è meglio. Ecco, Maria Cristina, quando parliamo di economia circolare, di cosa stiamo parlando esattamente? Beh, allora, anche in questo caso di un nuovo modo di vivere, nostro di tutti i giorni, quando noi facciamo la raccolta differenziata, siamo una pedina importante dell'economia circolare perché la carta, il vetro, la plastica, l'umido che noi andiamo a conferire correttamente, entra in un ciclo di produzione, di riuso e fa sì che non vengano usate materie prime, quindi non gli alberi perché uso la carta riciclata, non plastica e fonti fossili perché uso la plastica riciclata, non il vetro che effettivamente è abbastanza naturale come materia, ma vado a riutilizzare questo vetro. Quindi tutti noi, tecnicamente, tutti i giorni facciamo economia circolare, ma poi vediamo che l'economia circolare è diventata necessaria nell'industria, perché anche qui le aziende, e noi abbiamo portato dei casi interessantissimi, se volete poi ve li racconto proprio succintamente, ma utilizzano i loro scarti o li danno ad altre aziende, quella che si chiama simbiosi industriale, e non vanno a depauperare il pianeta, perché l'economia circolare è esattamente il contrario dell'economia lineare che abbiamo usato, purtroppo stiamo anche un po' ancora usando, fino a oggi, che significa andare a utilizzare materie prime dal nostro pianeta, terre rare che portano anche a scontri belligeranti, situazioni ambientali proprio di uso sfrenato, e parlo sempre di quello che è l'overshoot day. Noi arriviamo a maggio considerando, è un calcolo teorico, ma che dà significato, che noi abbiamo già esaurito da gennaio a maggio, tutte le risorse naturali che il pianeta ci potrebbe dare, e da maggio a dicembre andiamo a iper sfruttare il nostro pianeta. Quindi economia circolare significa, in una parola, aiutare a non inquinare, non buttare, non buttare. Faccio l'ultimo esempio, il mozzicone di sigaretta. Mai, io veramente mi piango quando vedo la gente fumare, perché obiettivamente non fa bene la salute, ma soprattutto quel gesto di buttare via il mozzicone per terra. Il mozzicone di sigaretta non solo inquina, perché ha dentro del catrame anche le falde nostre acquifere, ma soprattutto ha delle componenti che possono essere riusate. Ci sono realtà che già le utilizzano, quindi sempre cercare di conferire adeguatamente le pile, qualsiasi altro oggetto. Sicuramente, carissima collega, la questione all'interno della transizione ecologica, la questione più, secondo me, urgente anche sulla quale mettersi d'accordo è la transizione energetica. Perché lo dico? Perché noi in Italia abbiamo, io la prima volta che le vidi, le pale eoliche sui crinali tra il Molise e la Puglia, le trovavo anche comunque non troppo impattanti. Non sono inorridita, dico la verità, erano tanti tanti anni fa, però invece adesso ci sono tante battaglie che piano piano condivido nel senso opposto. Ecco, parliamoci anche con franchezza. Questa nostra Italia, con dei territori meravigliosi, paesaggi, è inutile che uso gli aggettivi, come possiamo fare appunto? Un compromesso? Per forza è necessario? O possiamo scegliere anche altre linee? Ecco, sto proprio sul crinale anche metaforico di chi non si sa decidere. Allora, io parto da un concetto. Tu stessa l'hai citata. Ci diamo tutti del tu, visto che siamo colleghi, ma anche con lo spiegatore dovesse fare domande. Allora, partiamo da un concetto. Quanto? Quanta energia noi abbiamo bisogno? Riusciamo a fare efficienza energetica? Veramente? Anche nelle nostre case? Riusciamo ad avere un frigorifero in meno piuttosto che due? O abbiamo acquistato degli elettrodomestici che consumano meno energia? Bene. Allora, se siamo corretti in questo, possiamo allora capire da quale fonte l'energia possa arrivare. Io sono per le rinnovabili, calcolando bene che quella rinnovabile sia correttamente alimentata dalla fonte. Voglio dire, se lo metto, se metto una paleolica dove non c'è un vento corretto, non c'è stato un calcolo, c'è stata magari una sorta di speculazione dove metterlo, allora sì, blocchiamolo. Posto che preferisco vedere una paleolica che un traliccio che comunque c'è in qualsiasi posizione e crea anche probabilmente dei campi elettromagnetici. Però, ripeto, andiamo a vedere che fonte c'è. Il sole ne abbiamo? Allora valutiamo bene di mettere il fotovoltaico. Io trovo che ci sia una fonte energetica che è ben poco sfruttata in Italia, probabilmente per discorsi politici, che è la geotermia. Noi abbiamo un potere geotermico, di fatti l'Italia è il paese delle spa e di tutto quello che ci permette di utilizzare quest'acqua. Ecco, usiamolo, anche perché la tecnologia oggi ci permette di usarlo al meglio. Ci sono stati problemi geotermici perché si rovinavano le tubature, c'erano questo tipo di discorsi. Bene, si sta risolvendo qualsiasi cosa. Perché la ricerca nei nostri laboratori, e qui dico che mi piace la Puglia perché c'è tantissima ricerca nelle università, nei centri del CNR, di Enea, ottimo, questo è una cosa ottima. Quindi usare meno l'energia è al meglio, ma con delle fonti rinnovabili, perché il futuro non sarà più delle fonti fossili. Non ce la possiamo più permettere. Gli stessi paesi arabi che si sono arricchiti per il loro sottoterra, perché il petrolio è sotto, stanno mettendo a punto delle città intere fatte di rinnovabili. Questa mi sembra una riflessione davvero pregnante, perché come ci ricordava appunto Maria Cristina Ceresa, direttore di Green Planner Magazine, le fonti fossili si stanno naturalmente esaurendo, quindi abbiamo un'urgenza in più nel trasformare in realizzazioni pratiche quella transizione energetica di cui appunto stavamo parlando. Adesso, bene, per approfondire questi temi, per conoscerli meglio, per restare sempre aggiornati, io vi invito a collegarvi con il sito di Green Planner, molto semplice, greenplanner.it, e a seguire Maria Cristina Ceresa anche sui social, perché appunto sono temi, ecco ringrazio la regia che ci sta proponendo il sito, sono temi su cui dobbiamo prestare la nostra attenzione e sui quali possiamo calibrare anche quelle piccole scelte quotidiane, quelle piccole azioni come non gettare, non disperdere nell'ambiente un mozzicone di sigaretta, come si parlava prima, per tenere il nostro ambiente più pulito e più sano. Grazie Maria Cristina per essere stata con noi stamattina, Speriamo di ritrovarti presto anche in futuro, per cui questo non è un addio, ma un arrivederci. Bene, grazie, assolutamente, sono con voi quando volete. Buon lavoro, buona giornata. Anche a voi, a presto, arrivederci. Grazie, grazie e ancora grazie Maria Cristina per essere stata con noi, noi adesso diamo la linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo per andare in natura con il guardiano del convento a vedere che cosa sta facendo tra i solchi del suo orto.